raga benvenuti in questo nuovo video acquisti di cosa stiamo parlando che cosa c'è adesso in questi giorni cos'è che sta facendo impazzire molti il black friday di amazon quindi noi siamo qui per parlare di un po di offerte per quanto riguarda la parte rap ho visto oggi che c'è un'offerta in particolare che è quella della santeria complete edition che sarebbe questa non so se l'avete già vista ho fatto un unboxing tempo fa marra gue santeria l'apriamo così vediamo un attimo che cosa c'è qua potete vedere il vinile poi un book con dentro delle foto di marra gue quello dentro al vinile è il cd normale con tutte le tracce di santeria un altro è tesori nascosti che sarebbe un cd con delle tracce in più c'è cashmere che conosciamo tutti scuteroni remix con sfere basse eccetera e questo qui invece è un dvd con le recording session e poi ci sono delle carte di cui io avevo promesso e facevo un quadro non l'ho mai fatto ma lo farò perché sono veramente bellissime c'erano i tarocchi praticamente però di santeria disegnati appunto dal designer che ha creato la copertina e tutto il resto se volete un unboxing più preciso ve lo lascio in descrizione perché l'avevo già fatto quando avevo comprato il complete edition perché vi sto facendo questo video perché adesso complete box che costava 50 euro adesso è scontato del 30% e ne costa 35 quindi nel caso fateci un pensierino perché secondo me ne vale la pena visto che ci sono i vinili ci sono i cd ci sono i tarocchi c'è insomma 35 euro li vale era un buon acquisto allora che costava 50 euro lo è ancora di più adesso che ne costa 35 per i black friday offerta del giorno valida solo per oggi quindi mi raccomando io vi lascio tutti i link in descrizione di tutto quello che vi sto per dire quindi anche le santerie complete box trovate tutto in descrizione in più oltre a questo amazon ha fatto anche una promozione rap nel senso che se comprate due cd vi fa il 20% di sconto possiamo trovare best seller come prisoner 709 di caparezzo oppure io in terra dircomi fenomeno di fibra sfera bassa di sfera e basta orange county di california di tedua museica di caparezza troviamo tutta la discografia di caparezza tutta la discografia di fibra tutta la discografia del club dogo poi troviamo anche comunque artisti stranieri 50 cent eminem insomma ci sono i cd più importanti neffa i messaggeri della dopa sia vecchi che nuovi vulcano di clementino dogo grazia kendrick lamar i beastie boys insomma c'è di tutto e di più ragazzi quindi se avete una collezione e state cercando di implementarla è il momento adatto perché c'è il 20% di sconto se prendete due cd quindi se ne prendete 4 eccetera eccetera avete sempre il 20% di sconto comprateli in coppia comprateli pari e in questo modo avrete sicuramente risparmiato rispetto al prezzo originale io vi lascio tutti i link in descrizione ho fatto questo video al volo per avvisarvi e per guardarvi anche qualche picciolame con il link affigliato amazon chiaramente c'è l'offertona diciamo è più su santeria complete box se poi avete anche una collezione di cd e volete ampliarla è il momento giusto perché ci sono tutte queste offerte cliccate in descrizione trovate tutti i link bella raga ci vediamo al prossimo video